Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della scuola secondaria di primo grado di Fernuda Gregorio di Trestina, sui quali saranno investiti circa 689.000 euro, di cui 540.000 euro dal PNRR, 54.000 euro finanziati dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e 95.000 euro confinanziati dal Comune di Città di Castello. L'intervento di ristrutturazione è finalizzato alla riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio, al miglioramento degli elementi architettonici, delle finiture e degli impianti. I lavori consentiranno inoltre l'efficientamento energetico dello stabile, con la sostituzione degli infissi più vecchi, l'installazione del cappotto termico e la sostituzione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria esistenti con impianti a pompa di calore. Per favorire l'utilizzo della palestra saranno anche abbattute le barriere architettoniche e saranno interamente rifatti sia la pavimentazione vinilica, sia gli spogliatoi che i relativi servizi igienici.